sto provvedendo gente datemi un minuto sistemo tutto è tutto a posto avete di nuovo la corrente e li abbiamo un problema apri è solo l'inizio dell'estate ho già trovato un pisce morto in piscina cercavamo di farlo resuscitare sei una vergogna ma sono una vergogna lo sai benissimo di che sto parlando ok li voglio subito sono 1700 dollari è furto aggravato amico copriti chiamatelo serinfo mi ha toccato le tette quello che abita qui lo arrestano sempre queste sono le stanze dove non dovremo entrare ma noi entriamo lo stesso nuovo lavoro già se tu lavori chi si occupa di muni tu non sei mio padre non vorrei mai essere tuo padre secondo te nessuno sa che succede lo sanno tutti sta per piangere lo capisco sempre quando un adulto sta per piangere senti io mi fido di te tu vuoi che ti aiuti a portarmi via mia figlia perché mamma urla non solo parlando devono chiarire qualcosa andiamo a vedere dove finisce l'arcobaleno andiamo 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 andiamo